Musica Misura di contenimento del caro energia per famiglie, imprese e denti locali con particolare riferimento alle aree interne e montane della Toscana. Lo chiede la proposta di risoluzione presentata dalla Presidente della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, Marco Nicolai. L'arrivo delle temperature invernali chiaramente pone una difficoltà nella difficoltà in questo momento di crisi energetica, quello dei territori montani, dove chiaramente le spese per i consumi energetici saranno molto più elevate per gli enti locali, per le famiglie e per le imprese. E quindi rispetto a questo noi chiediamo innanzitutto al Governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni differenziando in base alle fasce altimetriche. Allo stesso tempo un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche sacrosanta però è stata applicata anche a 1200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile. Ma i comuni non sono aziende private ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività. Più in generale la nostra mozione chiede al Governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase. È una questione questa rilevante, noi abbiamo comuni in Toscana che stanno pensando o hanno già attuato la riduzione dell'illuminazione pubblica. Di fronte a tutto questo è impensabile che le regioni abbiano in Italia la possibilità di sostenere efficacemente tutti i comuni rispetto a queste problematiche e se questo vale da tutte parti né in montagna vale ancora di più. L'atto è passato a maggioranza con 25 voti favorevoli con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astenzione di Fratelli d'Italia. Noi chiediamo intanto alla regione di avere attenzione anche nei confronti delle aree più marginali di questa meravigliosa terra che sono le montagne, le isole, le aree rurali dove vivono sì magari meno persone ma hanno bisogno della stessa attenzione. Noi siamo contrari a regioni di serie A e territori di serie B. Anche chi non nasce in centro a Firenze o a Pisa è giusto che abbia gli stessi servizi. È giusto che ci sia un'attenzione particolare in questo momento per le stazioni invernali. Penso alla Betone e alla Miata in particolar modo perché le imprese che gestiscono quelle stazioni che sono delle infrastrutture, le imprese degli impianti di salita sono imprese energivore. Pensiamo semplicemente all'attività della neve artificiale. Per produrre neve artificiale si utilizzano i cosiddetti cannoni da neve che trasformano l'acqua in neve artificiale e che fanno questo tipo di esercizio attraverso l'energia elettrica con delle spese enormi e il grido di allarme che arriva in particolar modo dalla Miata ma non soltanto è un grido dove addirittura le imprese che gestiscono impianti di salita dicono che saranno aperte per minore ore il giorno e non tutti i giorni della settimana. Chiaramente questo avrà delle ricadute negative anche su tutto l'indotto che sono gli alberghi, i ristoranti, i noleggi di sci, i maestri di sci eccetera eccetera. Quindi c'è bisogno di un intervento, di un'attenzione importante da parte della regione toscana stanziando anche un contributo straordinario per poter produrre neve artificiale. Da questo punto di vista noi abbiamo presentato una mozione come Fratelli d'Italia perché ci sia questo tipo di attenzione, perché si assicuri dopo due inverni quasi drammatici un inverno che non sia altrettanto drammatico alla montagna toscana, ad Abetone, ad Amiata e a tutte le altre stazioni sciistiche. Il ruolo della Toscana e delle regioni per uno sviluppo equilibrato del territorio europeo. In aula si discutono anche gli esili della cinquantesima assemblea generale della conferenza delle regioni periferiche e marittime. L'atto illustrato dalla Presidente della Commissione Europa, Francesco Gazzetti, passa all'unanimità. Ma è stato un esito molto importante, interessante perché ha sancito ancora una volta la volontà di evidenziare in sede europea, in sede internazionale, la necessità di dare protagonismo e voce ai territori, alle comunità, ovviamente a partire, nel nostro caso, dalle regioni. In quell'assemblea, che era la cinquantesima della CRPM, è stato anche confermato nel ruolo di uno dei vicepresidenti, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che avrà una delega molto importante, quella alle politiche di coesione. Nella proposta di risoluzione che in seno alla Commissione è stata approvata all'unanimità, vengono ripresi i temi della conferenza e vengono evidenziati i punti più significativi guardando anche alle questioni che interessano e riguardano la nostra realtà. Nuova tappa della Commissione Sanità del Consiglio regionale tra gli ospedali della Toscana dopo Grosseto, Pisa, è stata la volta di Firenze con la visita alla Santa Maria Nuova. A ricevere i consiglieri regionali il Direttore Generale della ASRE Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. Qual è la fotografia di questo importante ospedale ubicato nel centro di una città grande come Firenze? Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di questo ospedale. Noi facciamo da un punto di vista di accessi d'urgenza quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata. Poi ha una serie di specialità particolari a partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Quindi diciamo è un ospedale a tutti gli effetti. Se la domanda era relativa a delle difficoltà ma parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo ma perché dalle scuole di specializzazione non ce ne ha sufficienza. Quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta dell'utenza. L'utenza arriva e bisogna inquadrarla, diagnosticare e curarla. Rapporto con il territorio. Avete sperimentato anche delle novità. Con quali risultati? Noi abbiamo qui organizzato proprio un servizio con i geriatri. Sapete il nome è il girot sintetico ma in soldoni sono geriatri che prendono in carico proprio già dal pronto soccorso. Anziani che in realtà avrebbero dovuto trovare una risposta nel territorio e li riportano di nuovo sul territorio facendo servizio a casa oppure nei letti di cure intermedie nel territorio con gli specialisti proprio perché vogliamo dare la testimonianza qui al centro di Firenze che il più possibile si deve cercare di mantenere. Da questo punto di vista abbiamo anche incrementato molto il rapporto con i medici in medicina generale. Questo è un punto nevralgico su cui stiamo molto lavorando. C'è però intanto un problema pronto soccorso al Santa Maria Nuova? Non esiste in alcun modo un'idea che si possa chiudere un pronto soccorso. Torno a ripetere, c'è una normativa ben precisa. Questo è un ospedale che deve avere il pronto soccorso. Quindi è ancora una volta una questione di organizzazione. Se mancano perché non abbiamo specialisti dell'emergenza, ci sono i colleghi dei reparti che devono dare una mano. Questo è quello che si sta facendo. Quindi non è in alcun modo possibile che questo avvenga. Al termine della visita, le dichiarazioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione, Enrico Sostegni ed Andrea Ulmi. In realtà è Santa Maria Nuova, è un ospedale sul quale la regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità che però qui si è provato a calmerare con una serie di elementi che sono l'elemento del Giro, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per la mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso, questo che è stato capace di strutturare il Giro e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore, come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso. Quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata. Quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze. Nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Ci sono anche gli istanziali e gli istanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. È stato bellissimo incrociare lo sguardo delle bimbe, dei bimbi che seguivano il racconto dei due artisti. Come si può rappresentare la pace in questo tempo difficile facendo attraverso strumenti di comunicazione moderna? La street art è esattamente... Alla Scuola Media Poliziano di Firenze la prima opera di street art è finanziata grazie al bando del Consiglio regionale Rigenerazione Toscana. L'opera è stata presentata nei giorni scorsi dalla Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo assieme ai due artisti che la realizzeranno Muz e Moneles, un progetto, i colori della pace, curato da Gianguido Grassi. Sarà una composizione di libera fruizione, nel senso che sarà un po' il pubblico che verrà a vederla, che troverà la sua chiave di lettura. In questo caso ho preso in considerazione tre porte di Firenze, quindi anche il fatto dell'entrata, anche il fatto che sarebbero state messe all'entrata della scuola, dell'istituto, ho trovato consono fare questa scelta, anche perché sono delle parti principali dell'istituto stessa. L'intervento vero e proprio inizierà nei prossimi giorni. È molto importante che i ragazzi siano coinvolti in questo progetto perché la scuola è casa loro, è casa loro, ci vengono tutti i giorni, hanno le loro amicizie, hanno la loro motivazione di venire qua. E quindi diventerà un'altra immagine della loro scuola-casa. Il bando Rigenerazione ha messo in campo 2 milioni di euro destinati a 193 comuni. Assieme al Presidente del Consiglio anche la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, e il consigliere Mario Puppa. È bello che i ragazzi possano percepire che si può fare, si può toccare, però si deve fare una cosa bella. Per fare una cosa bella bisogna studiare, prepararsi, praticare, esercitare, secondo le regole proprio di un codice espressivo artistico, una forma di espressione come può essere quella appunto della pittura. È diverso da andare a scrivere il proprio nome su una statua o da andare a scrivere il proprio nome su un muro. In modo da valorizzare sia l'aspetto artistico ma anche la riqualificazione degli ambienti perché quando si parla di street art si parla comunque di artisti che intervengono sulle strutture per dare sia un messaggio, in questo caso rivolto alla pace, ma anche cercando di migliorare l'aspetto visivo degli edifici stessi. Grazie a tutti.